Non ci voglio credere, ma sta ancora dormendo, ma quanto dormono questi umani? Dai umana svegliati per favore, voglio la mia pappa! Cosa? Cosa vuol dire che devo aspettare ancora 5 minuti per fare colazione? Ma io ho fame adesso! Sì sì, lei conosco sui 5 minuti che poi diventano un'eternità, dovrò andarmi a preparare la colazione da solo. Ehi gatta non mi fermerai! Ma dove ti ammine l'ho lasciata la padella? Ok, eccola qua. Ok, versiamoci adesso un po' di composto per fare i pancake per cane. Delizioso, senti qua che profumino. E hopla! Beh, dovete ammettere che sono veramente uno chef bravissimo. Ok, adesso li impiliamo una sopra l'altra formando una bella torrettina sperando che non cralli tutto. E poi finalmente dopo una bella spruzzatina di miele potrò mangiarli. Ok, muoviamoci prima che arrivi l'umana. Oh no, è arrivata! E adesso? Vabbè, io li mangio tutti velocemente. Mmm, che buono che sono!